Ciao a tutti ragazzi, sono cari e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi, andremo a parlare dei due ATA che ci sono stati alla Juve Ovvero quello di Giorgio Nechellini e Paolo Di Bala Anche se, da come mi ha detto il buon Matt 0401, potrebbe lasciare anche Alessandro Se non abbiamo capito male, anche Alessandro è in scadenza Ma parliamo solo di Chiellini e Di Bala Allora, Chiellini è stata una bandiera per la Juve 17 anni in cui ha giocato appunto alla Juve Anche quando la Juve era retrocessa in Serie B per il calcio scommesse Anzi per Calciopoli, vi scusate E... niente Mentre su... e ancora non si sa il suo futuro Se lascerà direttamente il calcio, quindi dopo la nazionale O andrà in Serie B tipo Alpisa o addirittura nelle Serie inferiori a Livorno Mentre Paolo Di Bala aveva il contratto in scadenza E lui c'è stato 7 anni alla Juve E ancora non si... e anche per lui ancora non è chiaro Perché comunque si dice Inter Si parla di Inter, si parla di Roma Si parla della Premier League Secondo me ragazzi alla fine Gira che rigira Di Bala Andrà all'Inter E' vero che io ho fatto uscire il video in cui dico Di Bala-Roma Che potrebbe essere possibile Ma alla fine secondo me andrà all'Inter Perché l'Inter ci sta da più tempo E' più forte rispetto alla Roma Ed è proprio per questo che Di Bala potrebbe andare all'Inter E non alla Roma Comunque ragazzoli per questo è tutto Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella E noi ci vediamo come sempre con un nuovo video Ciao ragazzi